Mi ha conquistato il fatto che un giovane regista, al suo esordio, volesse fare un film su un passato. Sono tempi dal cielo chiuso. Su una storia che peraltro è anche una storia controversa, perché Gabriele D'Annunzio credo che sia stato uno degli uomini più amati e acclamati in vita, e poi forse più vilipesi e massacrati in qualche modo dopo la sua morte. So benissimo di essere spiato, controllato. Mi ha incuriosito il fatto di poter partecipare, studiare nuovamente un personaggio che quando eravamo ragazzi studiavamo a scuola e oltre al clippet e cloppet della pioggia nel pineto dopo un po' diceva mamma mia D'Annunzio, Pascoli e invece scoprire che era un gigante. Ed ecco che sappiamo quel che siamo e quel che vogliamo. Grazie a tutti.